Continua il presidio permanente degli operai della Treofan che da giorni protestano contro la svendita dello stabilimento ad una multinazionale indiana. Lavoratori ed ex lavoratori si sono accampati con tende e fuoco acceso nei pressi dell'ingresso della fabbrica per provare a tenere acceso un faro su una situazione che solo su battipaglia coinvolge più di 100 famiglie indotto compreso. Il giorno di Natale Don Paolo Castaldi, parroco della chiesa Sant'Antonio da Padova di Serroni, ufficerà una messa davanti ai cancelli con i lavoratori e le loro famiglie. Dovete sapere che la vendita è stato come un passaggio di azioni che è avvenuto fra la proprietà di De Benedetti, che lui era l'azionista di maggioranza, a questa gindal in una sera. Si sapeva che c'erano vari gruppi che stavano partecipando alla possibile vendita di questo gruppo, mai si sarebbe un qualsiasi lavoratore che vedete qui dietro di me, avrebbe mai pensato che questo stabilimento che è stato Florida in 30-40 anni non ha mai fatto quasi perdita. Negli ultimi dieci ha portato redditività a tutto il gruppo. Si sarebbe mai immaginato di passare, come dicevi nella domanda che mi facevi, passare una vigilia di Natale, credo anche il Capodanno e qualche cosa in più, solo per il fatto che hanno ricevuto come comunicazione dalla Gindal, che ha acquisito questo pacchetto azionario, quindi diventandone i proprietari e i responsabili della gestione attuale e futura della Treofan, mai si sarebbero aspettati, dicevo questi lavoratori, di passare un Natale non con le proprie famiglie ma qui. Tengo a precisare una cosa importante, che la Gindal ha comunicato, noi sappiamo questa cosa, dal Mise, che abbiamo subito tempestivamente convocato a livello nazionale come organizzazione sindacale congiunte, per capire perché c'è stata una vendita, ma sediamoci al tavolo e ragioniamo in che termini vogliamo andare avanti a lavorare. Il fatto che al Mise abbiano comunicato alla Gindal la mancata ripresa delle attività dopo le feste di Natale per questo stabilimento, che in 30 anni non è mai avvenuto, cioè si sa che si fanno le ferie, dopodiché si riprende l'attività già programmata e già si sa quanti lavoratori scendono a lavorare. Questo è il campanello forte d'allarme che ha fatto salire la preoccupazione dei lavoratori, per i quali c'è un futuro incerto rispetto a questa situazione. Allora noi stiamo innescando tutti quei meccanismi da un punto di vista tecnico-giuridico e degli enti preposti a tentare di mettere su un tavolo per avere risposte della Gindal che si sta ritraendo da questa situazione. Però un atto concreto l'ha fatto, cioè quello di comunicare al Mise che era impossibilità di andare lì all'incontro perché si è dimesso il Consiglio di amministrazione. Altra nota importante è che in genere quando si dimettono i Consigli di amministrazione si dimettono gli amministratori, ma i sindaci che l'hanno controllato e che dovrebbero continuarne a controllare le attività. Si sono dimessi anche i sindaci. Questo è un fatto anomalo anche da un punto di vista proprio della tenuta di una società. E noi risposti in merito a questo non le capiamo. Possiamo immaginare con i nostri retropensieri cosa si nasconde dentro. La Gindal ha avuto un finanziamento pubblico di 30 milioni a brindasi, quindi sul territorio nazionale, utilizzando fondi e soldi di tutti i contribuenti italiani, quindi mettendosi nelle condizioni di competitività sia sul territorio nazionale che su quello europeo e internazionale, abbassando i costi per effetto di questi 30 milioni di finanziamenti. Adesso, se non dovesse far continuare le attività di Treofan, in Germania, a Terni e a Battipari, che sono i tre stabilimenti del gruppo Treofan, e la dovesse chiudere per ipotesi, si è presa la fetta di mercato che permetteva e consentiva a questi stabilimenti di vivere in perfetta autonomia e in redditività. Poi c'è una cosa in più che bisogna dire, che lo diremo poi nei tavoli, che speriamo di costruire quanto più presto possibile. Andassero a vedere quali sono gli stabilimenti che non hanno fatto redditività e hanno fatto perdite. Per quello che ci riguarda, possiamo dire, senza ombra di dubbio e di preoccupazione, che lo stabilimento Treofan di Battipari, lo ribadisco. Ci siamo seduti ai tavoli di Confindustria tanti anni, perché ogni anno viene fatto il premio di partecipazione. Non si danno premio di partecipazione di 2.500 euro, 3.000 euro ai lavoratori se non hanno fatto una redditività, il cui mollo, il margine operativo lordo, lo consente di fare. Quindi è pazzesco pensare. Qui avveniva quindi. Qui è avvenuto ogni anno e stavamo per rinnovarlo per l'anno prossimo. Ci è caduta questa spada di Damocle in destra ai lavoratori, nel quale viene detto non sappiamo la ripresa delle attività quando le facciamo. E hanno bloccato, ovviamente con delle comunicazioni di servizio, neanche l'acquisto delle materie prime che avrebbero consentito la ripresa. Sapendo che in portafoglio, sappiamo, perché il lavoro ha proseguito regolarmente fino a quella comunicazione e in portafoglio c'erano fino a giugno del 2019 gli ordini per far camminare tranquillamente questo stabilimento. Allora, io le pongo questa domanda. Le sembra mai possibile che ci dobbiamo trovare in questa situazione e che i lavoratori, invece di stare a casa con le proprie famiglie a Natale, devono passare notte e giorni per un presidio di un lavoro di cui non si comprende perché non si lavora più in Italia.